Sindaco, una bella iniziativa, insomma pensare alle donne sole, alle donne in difficoltà è un dovere per un'amministrazione comunale? Assolutamente sì, è un dovere soprattutto per quelle donne che purtroppo continuano a subire questi atti di violenza che sono abberranti per la società odierna e quindi noi dobbiamo assolutamente predisporre tutto quello che si può fare per poter ridare nuova vita a queste persone che subiscono degli abusi. Lei da donna, come Vice Sindaco di Città Sant'Angelo, ovviamente è ancora più interessata a questa iniziativa? Assolutamente sì, è un tema al quale tengo molto. Il periodo della pandemia addirittura ha moltiplicato i casi di violenza domestica e questo ci ha spinto ancora di più a cercare di concludere velocemente questo progetto. Veramente un grazie importante va a tutti i collaboratori e tutti gli attori che hanno gravitato intorno a questo progetto, a partire dalla regione Abruzzo che grazie all'intervento del consigliere regionale Vincenzo Vincecco ha fatto sì che ci fosse anche un contributo per la messa in sicurezza della casa e per la manutenzione di questa casa che per tanti anni era stata lasciata in abbandono, l'associazione Ananche, ma si è scatenata una vera e propria corsa proprio all'aiuto, alla partecipazione a questo progetto che testimonia quanto questo tema sia sentito da tutta la comunità, quindi non solo dal mondo dell'amministrazione. L'Ananche come da Mission che sostiene e aiuta le donne vittime di violenza andrà a gestire questa casa, quindi in qualche maniera noi abbiamo un'equip all'interno della casa che seguirà le donne in questi ingressi fatti in emergenza, che sono ingressi entro le 48 ore. Dir la verità abbiamo sostenuto dal lockdown in poi varie donne in emergenza e devo dire l'ingresso si fa anche nel giro di 2-3 ore, quindi è veramente una cosa tempestiva e immediata. E poi insieme alle donne noi cercheremo di riprogettare e definire qual è il loro progetto di vita successivo, quindi a stretto giro cosa è più opportuno per la propria tutela e cosa è più opportuno anche per i minori fare, quindi allontanarsi in un'altra struttura, in una casa protetta, dentro la regione, fuori la regione, tornare nel paese di origine. Le prospettive delle donne sono varie, ci sono anche donne che hanno scelto di tornare a casa dalla propria abitazione, quindi dal maltrattante, perché comunque non erano pronte a avviare questo percorso. Indubbiamente un percorso che si attiva in emergenza prevede una denuncia, prevede una rottura con la quotidianità e la routine alla quale erano abituati sia la donna che i minori e questo mette molto in crisi a livello personale.